Il saluto del sindaco di Fano e i giornalisti che per dieci anni lo hanno seguito e hanno partecipato alle conferenze stampa settimanali. Brutto incidente sulla E78, le porte di Fano, ferita una ragazza. A pochi giorni dal voto sono ancora in tanti quelli che non hanno deciso per chi votare. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. Questa mattina poco prima delle 13 a Pesaro c'è stato un incidente mortale nel quale ha perso la vita una donna di 70 anni che era in sella alla sua bicicletta ed è stata travolta da un camion in via Giolitti. A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 giunti sul posto di salvarla. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Pesaro. Un brutto incidente stradale invece si è verificato intorno alle 19 nel tratto di superstrada Fano Grosseto in direzione Roma all'altezza della chiesa di Madonna del Ponte. Un'auto condotta da una ragazza per causa in corso di accertamento ha autato il New Jersey. Si è rigirata probabilmente su se stessa distruggendo la parte anteriore della vettura. La donna è stata subito soccorsa dei sanitari del 118 che l'hanno medicata sul posto. Alcuni pagina di politica cominciamo dalla conferenza del sindaco, una ultima conferenza stampa del sindaco con i giornalisti. Aguzzi ha tracciato un bilancio dei suoi dieci anni di governo della città di Fano tra molte difficoltà soprattutto economiche e progetti realizzati. E alla fine dell'intervista come sentiremo tra poco non ha mancato di criticare il candidato del centro-sinistra. Si è detto sereno per i dieci anni passati in amministrazione ed ha elencato i risultati raggiunti ed anche le cose fatte in questo tempo. Stefano Aguzzi, sindaco di Fano uscente, ha così concluso il suo mandato salutando stampa i cittadini. Intanto dieci anni belli e anche molto difficili chiaramente, soprattutto gli ultimi con questa crisi che ha cambiato proprio il corso della storia. Però posso dire una cosa, io credo indubbiamente di aver svolto un lavoro preciso con la mia presenza, dedizione, serietà e attenzione alla città. Attenzione alla città non vuol dire risolvere i problemi, tanti sono rimasti irrisolti e sono anche sotto gli occhi di tutti. Però non si può dire Aguzzi non c'era. Io sono stato sempre presente per dieci anni. Prima cosa questo l'ho fatto. Seconda cosa che rivendico con grande forza è il metodo di governo. Io non credo di essere stato il sindaco, diciamo così, di là dalla barricata, come dire un qualcosa in mezzo tra me e il cittadino. È stato un tutt'uno. Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. E anche in questo caso non vuol dire poi risolvergli i problemi, però almeno vuol dire conoscerli, affrontarli, guardarli in faccia. Un'altra cosa che rivendico con forza, e questo invece sotto gli occhi di tutti, sono i bilanci. Nonostante le difficoltà io lascio dopo dieci anni un comune con un bilancio a pareggio. Un avanzo di amministrazione dovuto a noi, ai patti di stabilità, che non ci hanno consentito di spendere i soldi, di 16 milioni di euro. Bilancio a posto anche delle due aziende Aset. Queste sono le cose che mi rendono più orgoglioso. Se devo dire le due cose che saltano più all'occhio e mi fanno più piacere è aver riportato la università in centro storico Palazzo San Michele e essere riuscito, grazie in primo caso la fondazione Carifaglio, in secondo caso la fondazione Montanari, aver ridato vita alla Mediateca Montanari appunto in centro storico in Piazza Mianni. Questa mattina oltre a fare questo bilancio di dieci anni ha avuto qualcosa da dire sull'approvazione del bilancio, una piccola stoccatina diciamo così a massimo serie. Pochi giorni fa c'è il candidato del centro-sinistra, diceva che era molto grave il comune di Fano non aveva approvato il suo bilancio preventivo sul 2014. Lui è assessore provinciale, la provincia di Pesurbino non ha approvato il bilancio. Nonostante una mozione dell'opposizione che chiedeva l'approvazione del bilancio prima delle elezioni, questa mozione non è stata discussa. Io immagino anche perché. Perché se la provincia fosse arrivata ad approvare o a cercare di approvare il bilancio molto probabilmente non avrebbe i conti a posto e sarebbe una provincia in default. Se una provincia dichiara di essere in default il suo presidente e la sua giunta non si può ricandidare. E loro non vengono a dare lezioni a me che invece lascia un bilancio a posto sia consuntivo che preventivo e non l'ho approvato solo perché non sapevamo bene come applicare le tariffe e i costi perché il governo ancora non ci ha detto come saranno diciamo così redistribuite le varie tassazioni a livello nazionale. Allora sei punti da portare avanti insieme per la città. Li propone Massimo Seri ai suoi avversari per l'afano del futuro. Credo che sarò il prossimo sindaco ma se così non fosse voglio assicurarmi che ci siano punti fermi su cui lavorare con tutti gli altri per il bene della città. Massimo Seri è chiusura della campagna elettorale che lo vede candidato con la coalizione di centro-sinistra dal nome Fare Città presenta un elenco di sei punti per gli altri aspiranti sindaci. Chi si candida lo fa perché vuol bene alla propria città e allora al di là di quelli che saranno i risultati di chi sarà il nuovo sindaco penso debba prendersi degli impegni minimi. Tra questi ho citato ad esempio l'impegno immediato dal giorno dopo dell'insediamento a realizzare il progetto per la difesa della costa perché altrimenti rischiamo di perdere i 3 milioni di euro dei fondi FAS che fanno parte della vecchia programmazione. Come riuscire a far proseguire gli scavi sul teatro romano coinvolgendo ovviamente altri enti che possono finanziare quest'opera. Per esempio mi sono già adoperato con il vice ministro Nencini affinché possa seguire una richiesta della sovrintendenza che andava verso questa direzione. Come ad esempio accelerare il dialogo con il De Magno per entrare in possesso dell'area del parco cittadino che deve sorgere e che purtroppo da troppi anni sta attendendo. Come la rivisitazione della macchina comunale, come ad esempio attrezzarsi veramente per intercettare risorse dei fondi europei. Oltre a questo avete anche presentato un'agenda che sarà quella che vi accompagnerà in caso di vincita fino al 2024. Sì, la vera sfida di un sindaco è anche capire dove vuole arrivare, dove vuole portare la città. E allora io voglio avere questa visione. Quindi mi sono immaginato una città come può trasformarsi nel 2024 con delle scelte che io porterei avanti in termini di accoglienza, in termini turistici, in termini di attenzione verso i più deboli, in termini proprio di sviluppo, di crescita con delle ricadute occupazionali. Questo è un tema importante dove ci giochiamo veramente non solo la credibilità ma la sfida di questa città. Noi sappiamo benissimo che il lavoro non si crea con nuove leggi, il lavoro si crea con la crescita, con lo sviluppo. Siccome noi abbiamo delle eccellenze importanti in questo territorio, valorizziamole e sono convinto che a cascata ci possono essere grandi opportunità. Come ad esempio riuscire ad entrare in quel grande progetto che è la macro regione ionico-adriatica dove veramente Fano potrebbe giocare un ruolo con anche l'intercettazione di risorse importanti e di nuovi progetti. Niente tasse invece per chi apre una nuova attività e assume personale. La proposta del candidato a sindaco Mirko Carloni. Io ho fatto questa proposta e credo che sia anche il resoconto di un'attività di campagna elettorale che mi ha portato a capire che tanta gente oggi non apre, non intraprende nuove attività, soprattutto i giovani, per la burocrazia e per i costi iniziali. Allora io ho fatto questa proposta che è fattibile ed è competenza del Comune di Fano. Il Comune gestisce l'imposta sui rifiuti, la tassa di occupazione del suolo pubblico e quella sulle insegne. Sono tre tasse. Io ho proposto che quando diventerò sindaco abolirò queste tre tasse per chi apre nuove attività e assume almeno due persone, almeno per un anno, in modo da aiutare e stimolare le start-up e magari quei soldi risparmiati in tre imposte verranno utilizzati per assumere nuove persone, per dare occupazione, soprattutto ai giovani. Quindi una proposta che va anche nei confronti di una ripresa economica, perché parliamo dell'apertura di nuove attività. Esatto, noi dobbiamo fare di tutto per incentivare l'apertura di nuove attività che diano un segnale di ripresa e purtroppo in questo momento abbiamo a disposizione poche leve. Le uniche leve sono quelle della burocrazia e delle imposte locali. Queste due cose vanno ridotte, tagliate, combattute, affinché non ci sia più la mentalità burocratica, che le cose cadano dall'alto. Anche perché molte persone non intraprendono, non iniziano nuove attività, perché dopo qualche giro in comune capiscono la difficoltà, non c'è nessuno che le aiuta, non c'è nessuno che gli viene incontro, che utilizza il buon senso. Invece io chiederò a tutti i dirigenti, a tutti gli assessori, a cominciare dando l'esempio dal sindaco, di mettere il proprio numero di telefono cellulare sulle porte degli uffici, in modo da togliere le file, le burocrazie, le attese per incontrare un dirigente, un funzionario. Bisogna mettersi a disposizione velocemente, rapidamente, per dare risposte a chi ha voglia di fare, chi ha voglia di aprire nuove attività. Non sempre le modalità di voto sono chiare al popolo degli elettori. Nel prossimo servizio cercheremo di spiegare al meglio come esprimere le preferenze, senza rischiare di vedersi annullare la scheda elettorale. Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative e Fano si appresta ad avere un nuovo sindaco ed un nuovo consiglio comunale. Ecco quindi i nomi dei candidati a sindaco e le liste collegate. Davide Del Vecchio è candidato a sindaco con la coalizione insieme per Fano. Le liste a lui collegate sono Forza Italia, l'Udc, la tua Fano lista Guzzi, i pensionati e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Daniele Sanchioni è candidato a sindaco con Prima Fano e la lista a lui collegata è la lista civica Prima Fano. Giancarlo Danna è candidato a sindaco con la propria lista civica Danna Sindaco. Massimo Seri è candidato con la coalizione Fare Città. Le liste a lui collegate sono PD, noi giovani seri per Fano, noi città seri sindaco, PSI, Sinistra Unita, la Fano dei quartieri. Luca Rodolfo Paolini è candidato a sindaco con la lista della Lega Nord. Adaro Miccioli è candidato a sindaco con il Movimento a 5 Stelle di Fano. Mirko Carloni è candidato a sindaco con la coalizione La Scelta Giusta per Fano. Le liste a lui collegate sono la lista civica La Cosa Giusta, Mirko Carloni Sindaco, il nuovo centrodestra, Fano in testa, Fano Popolare, Popolari per l'Italia e la rinascita di Fano. Ecco invece le modalità di voto. Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi, tracciando un segno solamente sul simbolo di una lista, assegnando in questo modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e anche al candidato sindaco da quest'ultimo appoggiato. La seconda modalità è quella del tracciare un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere appartenenti alla stessa lista e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto. La terza modalità è quella del tracciare un segno solamente sul nome del sindaco, votando così solamente per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Nel caso in cui l'elettore decida di esporre sulla lista due preferenze, scrivendo il cognome dei candidati prescelti, la legge prevede che queste debbano riguardare candidati di sesso diverso, appena di annullamento della seconda preferenza. Per tutto l'elenco completo dei candidati in consiglio comunale è possibile visitare il nostro sito internet www.occhioallanotizia.it Vi ricordo che questo servizio lo potrete vedere già da stasera sul nostro sito internet occhioallanotizia.it Passata in giunta la giunta comunale di Fano la delibera sulla pista ciclabile che collegherà la trave a Fenile, un progetto che potrebbe partire a breve. I lavori partiranno quanto prima, penso nel giro di 10-15 giorni. Stiamo aspettando che approvi la convenzione e anche la provincia. Noi l'abbiamo approvata già nella giornata di ieri. Sono 200 mila euro che sono finanziati dal comune di Fano e circa 50 mila euro finanziati dal comune di Pesaro ma non come finanziamento di soldi ma come uso dei mezzi della provincia e come uso del personale della provincia stessa. Quindi in tutto spenderemo 250 mila euro. Anche se la provincia ha detto molto probabilmente ci vorrà un po' più di tempo e quindi un po' più di personale, un po' più di mezzi. Comunque diciamo che nel giro di brevissimo tempo sarà pronta anche finalmente questa pista ciclabile. Pista ciclabile che poi stiamo studiando dove e in che modo collegarla con la Fano-Pesaro perché poi veramente sarebbe una vera pista ciclabile abbastanza lunga. Ricordiamo appunto adesso da dove parte di preciso e dove arriva? Parte sul ponte di Via Trave e arriverà proprio all'abitato di Fenile dove c'è il distributore di benzina. Sono circa due chilometri e mezzo. Basta euro con questo slogan il professor Claudio Borghi Aquilini candidato al Parlamento Europeo per la Lega Nord ha tenuto un incontro questo pomeriggio a Fano. Portare il professor Borghi a Fano è una cosa positiva perché lo vediamo tutte le sere in tv e questa sera avremo modo di vederlo dal vivo. È importante perché è uno dei professori che spiega perché l'euro è una moneta criminale e perché converebbe a noi e anche ad altri paesi come la Francia uscirne. Ma guardi, in passato è già successo. Voglio dire, negli anni 90 la moneta italiana fu bloccata nello stesso meccanismo di blocco europeo che si chiamava SME e anche allora fu crisi. Quando ci si liberò tutto migliorò ma soprattutto migliorò per le Marche. Ancona e Fano erano due poli del traino dell'economia italiana. Quindi c'è un diretto interesse della regione Marche secondo me a avere una moneta corretta per la propria economia. Altrimenti ci si condanna alla disoccupazione. A quanti pensano che ci siano invece solamente effetti negativi in un momento come questo a uscire dall'euro? Lei che cosa risponde? Direi di guardarsi intorno. Direi di guardarsi intorno e di verificare se quello che vedono gli piace. Si è parlato di emergenza abitativa nell'incontro con Confabitare che si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale. L'associazione ha circa 800 iscritti nella provincia di Pesaro e Urbino di cui la metà sono fanesi. Confabitare prima di tutto è una organizzazione a politica senza scopo di lucro che si permette di tutelare gli interessi dei proprietari immobiliari e in genere di chi intende proteggere il bene casa. Abbiamo promosso questo incontro con i candidati sindaci per farci parte attiva in questo contesto e soprattutto affrontare con loro le politiche abitative all'interno del Comune di Fano. Politiche abitative a 360 gradi, mi spiegavate quindi anche attenzione alla parte sociale di questo tema? Certo, sì. Uno dei temi che vogliamo affrontare è l'abbattimento delle barriere architettoniche, il sostegno di un'edilizia residenziale pubblica, ma la creazione anche di un assessorato alle politiche abitative distinto dall'assessorato all'urbanistica. La creazione di un osservatorio immobiliare che prenda anche in considerazione poi le problematiche legate agli sfratti e quindi problematiche molto sentite all'interno del nostro Comune. Ricordiamo che il Comune di Fano è un Comune ad alta tensione abitativa e quindi la nostra associazione si vuole fare parte attiva nel fare proposte per risolvere poi tutte le problematiche che riguardano il territorio sotto questo profilo. Quanto c'è da fare secondo voi a Fano ancora su questo argomento? C'è ancora tanto da fare, però insomma siamo sulla strada giusta per poter riuscire a realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi. L'augurio che ci facciamo è che tutte le associazioni, quindi vi compresa Confabitare, vengano coinvolte dal candidato sindaco nella risoluzione delle problematiche abitative, quindi nella risoluzione dei problemi dell'emergenza sfratti, della tassazione per quel che riguarda la casa e che infine l'associazione Confabitare e tutte le altre associazioni di proprietari vengano coinvolti in un protocollo d'intesa per poter essere sempre parti attivi all'interno del Comune di Fano. Il prossimo servizio probabilmente farà dormire sonni poco tranquilli non solo ai candidati in corsa per la portrona di sindaco, ma anche a quelli che mirano ad un posto in consiglio comunale. Perché? Perché in tantissimi, come vedremo, non hanno ancora deciso per chi votare. Sono informati sui candidati, hanno letto i programmi, seguito interviste, li hanno sentiti parlare ma nessuno di loro li convince appieno, tanto che ad oggi, a soli quattro giorni dalle elezioni, non sanno ancora chi votare. Tra i fanesi sono tanti ancora gli indecisi che non hanno ancora le idee chiare su quale nome o coalizione mettere la famosa crocetta. Io sono molto indeciso, sento troppe parole e vedo pochi fatti. Mi auguro di sbagliarmi, però di solito non mi sbaglio. Vedo che le cose non cambiano mai, specialmente per noi pensionati. Lei andrà a votare convinto? No, convinto no, però sì, vado a votare. Ha già deciso, non vogliamo sapere chi, ma ha già deciso comunque chi votare. Sì, ho deciso da abbastanza tempo e non ho problemi a dirlo, fra l'altro. Andiamo convinto per l'80-90%, quindi. Ormai questa fase di votazioni per sette sindaci a Fano è la prima volta che capita e quindi penso che siano tutti informati, almeno me lo auguro, anche perché è una responsabilità non indifferente. Non sono convinta, proprio per niente. Quindi deciderà in questi giorni? Esattamente, e dopo vedremo un po' cosa votare. Quello che c'è momentanamente non mi piace proprio, però... Nessuno? No. Sceglieremo? Non sono convinto ancora, quindi... No, non so, no. Quindi gli ultimi giorni saranno indecisivi? Sì, adesso vediamo, ci penso un po', poi vediamo. In realtà sono abbastanza sfiduciato, se proprio essere sincero, però vedrò adesso. La decisione la prenderò adesso. Dentro la cabina elettorale? Probabile, molto probabile. Su una cosa qualcuno almeno è convinto e in molti lo sperano davvero. Che mi colpirà il cuore, voterò. Quindi siamo proprio dentro la cabina elettorale. Il cuore sarà il migliore. Tra pochissimo le pillole di occhio al voto, poi uno speciale su una serata organizzata dal Movimento a 5 Stelle, dal titolo Yellow Party. E infine la presentazione del programma della coalizione di Davide del Vecchio. È tutto per Occhio alla Notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.